Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Kidio e oggi voglio parlarvi di Mingo. Non pensare che tutti gli italiani siano popolari con le ragazze. Il manga pubblicato dal nostro connazionale Peppe al costo di 12,90€ da D-Nit Manga e questa è la variant cover in esclusiva per Manga.io. Devo essere onesto, ero abbastanza scettico quando mi sono avvicinato a Mingo, ma non perché penso che gli italiani non possano fare manga, anzi sono uno dei massimi sostenitori dato che conosco tantissimi bravissimi autori di manga italiani come Massimo Dall'Oglio, Alessia Vivenzio, Salvatore Pascarella e tanti tanti altri. Bensì perché mi era stato detto che questo manga effettivamente era disegnato in modo orribile o altre cose. Beh, io non credo che sia propriamente così. Partiamo proprio dal disegno quindi, dato che molti dicevano che fa completamente schifo. Ecco, io credo che sicuramente questo non sia un disegno eccezionale, non sia un disegno che rimarrà nella storia del manga. Per quanto riguarda il disegno più bello di sempre, sicuramente non ci troviamo davanti a Takeiko Inoue, né a uno Tsutomu Takashi, ma credo che faccia pienamente il suo compito e anzi ci sono tanti manga che secondo me disegnano ben peggio. Quindi per quanto riguarda la parte estetica, secondo me non è assolutamente così da bocciare. Mentre per quanto riguarda la storia, sicuramente non ci troviamo davanti a qualcosa di chissà quanto profondo. È semplicemente una storia semi-autobiografica, credo che sia appunto autobiografica in maniera abbastanza evidente, ovvero la storia di un ragazzo che va in Giappone perché è sempre stato appassionato di cultura otaku, se così vogliamo, quindi di anime, di manga, di videogiochi, di modellismo, e però si trova un attimo spiazzato da quello che tutti i suoi connazionali italiani dicevano prima che lui andasse in Giappone, ovvero che praticamente la terra del Sol Levante fosse quasi un paradiso per chiunque volesse rimorchiare le ragazze giapponesi, soprattutto se è italiano, dato che c'è questa leggenda, così si narra, che gli italiani in Giappone spopolino in maniera veramente esagerata. Ecco, sicuramente non è il suo caso. E infatti tutte le scene comiche che vediamo durante questo primo volume dell'opera sono tutte legate, bene o male, al fatto che lui sia veramente imbranatissimo, tanto da non riuscire ad acchiappare una ragazza neanche quando questa praticamente gli si sta letteralmente gettando tra le braccia, nonostante lui avesse delle ottime possibilità, anche perché è un modello, totalmente in maniera casuale, visto che è stato visto da un agente mentre era in giro a comprare, se non sbaglio, dei modellini o cose del genere, e si è ritrovato quindi ad essere un modello, perché comunque abbastanza avvenente. Questo gli dà tantissime possibilità, che però lui non riesce minimamente a sfruttare, e verrà contrapposto questo al fatto che tutti i suoi amici italiani, che si trovano in Giappone insieme a lui a frequentare questa scuola di lingua, perché è per quello che lui è andato principalmente in Giappone, proveranno in tutti i modi a farlo rimorchiare, ovviamente dando ognuno le sue indicazioni e facendolo quindi andare in confusione. Ecco, la cosa carina è proprio il fatto di vedere tutti questi stereotipi, sia sugli italiani che sui giapponesi, venire smontati o comunque venire presi in oggetto per delle sane risate. Quindi sicuramente mi sento di consigliarlo a chi cerca qualcosa di leggero, carino, che faccia fare tante risate, e soprattutto che possa anche farci empatizzare con un otaku come noi, che ha sempre sognato di andare in Giappone, e che finalmente lì si trova sicuramente al settimo cello, ma al contempo molto molto spaesato. In più, se volete conoscere qualcosa sull'autore, Peppe, vi ricordo che prossimamente lo intervisterò qui sul canale e potete scoprire un pochino di più anche sulla sua personalità guardando l'ultima stagione del reality TerraSouse su Netflix. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi attivando le notifiche e condividetelo sui social, fate i vostri acquisti su manga.io.it, con il codice Kirio avrete il 5% di sconto, oppure su Amazon, passando il link affidazione qui sotto, seguitemi su Instagram, TikTok e Twitch, noi ci vediamo alla prossima e ciao!